Vuoi iniziare a investire in NFT ma hai poco budget e soprattutto hai paura che questi soldi che investirai li perderai molto velocemente, è chiaro. Vediamo com'è possibile con un minimo di 1000€ iniziare a investire in NFT e duplicare o anche triplicare i propri guadagni o anche molto di più se sei fortunati. Oggi vorrei farvi vedere una strategia che comunque permette di fare guadagni niente male, con un minimo di impegno si riesce a ottenere veramente risultati spettacolari. Io al momento sto attuando questa strategia, sono ancora agli inizi, però insomma vorrei farvi un attimo capire come mi sono mosso io e soprattutto come si muove qualcuno che non ha tanto budget e che quindi vuole evitare di fare passi falsi. Io di passi falsi ne ho già fatti e quindi insomma con questa strategia vorrei farvi capire come potete evitare di farli anche voi. Chiaramente io non sono un consulente finanziario quindi assolutamente non investite soldi che non potete perdere seguendo questa strategia. La strategia in breve si compone di quattro elementi, il primo è trovare un progetto nella fase iniziale e quindi studiare il progetto nella fase iniziale, dopodiché ottenere una whitelist che vi spiegherò a breve che cos'è, dopodiché mintare, quindi pagare, comprare questo NFT al lancio, solo se le condizioni sono favorevoli e quindi viene rivenduto sul mercato secondario già ad un prezzo maggiore rispetto al prezzo di minting, e infine vendere sul mercato secondario che la maggior parte delle volte sarà OpenSea. Il primo step quindi è trovare i progetti interessanti. Come si trovano questi progetti interessanti? Molti avrete sentito parlare di Rarity.tools, ma sinceramente io quella è una strategia che non consiglio perché perdereste un sacco di tempo. Quello che vi consiglio è di seguire alcuni influencer americani su Twitter, avete bisogno di Twitter al 100% se volete entrare in questo mondo, ve ne lascio qualcuno qua intorno, screenshotateli e andateli a seguire su Twitter, perché queste persone normalmente ritwitteranno alcuni tweet di progetti che loro considerano buoni. Quindi in questo modo se voi siete attivi su Twitter inizierete a vedere, seguendo queste persone, insomma questi influencer, riuscirete a vedere i progetti prima che diventano troppo famosi e questo è un elemento chiave. Un altro modo per ottenere informazioni su quali sono i progetti migliori è essere attivo in alcuni gruppi Discord. Infatti ci sono alcuni gruppi Discord che sono chiamati Alpha e l'Alpha non è altro che un'informazione prima che diventi mainstream, prima che tutti la conoscano. Quindi facendo parte di questi gruppi Discord normalmente verrete in contatto con persone che vi mostrano dei profili Twitter e così potrete essere in vantaggio rispetto alla maggior parte delle persone. Chiaramente è pieno di canali Discord e non tutti chiaramente mostrano progetti buoni. Quindi quello che vi consiglio è sempre magari di partecipare nel gruppo Discord di un qualche influencer che si sa che ha la fama comunque di dare ottime informazioni. Chiaramente Twitter e Discord saranno i vostri migliori amici. Lasciate stare i rari di DotTools perché se non ci capita niente sarà per voi molto difficile trovare un progetto interessante. Quello che vi consiglio è di mettere le notifiche attive a questi influencer che vi ho detto di seguire così appena loro Twitteranno il progetto voi sarete tra i primi a conoscere quel progetto e questo normalmente dà un notevole vantaggio. Dopo aver trovato questi progetti interessanti il secondo step sarà quello di ottenere la whitelist. La whitelist è niente che l'accesso al pre-sale. Quindi prima che il progetto venga venduto a tutto il pubblico sì il progetto viene venduto a una whitelist quindi a una lista di persone che hanno il diritto di comprare l'NFT prima degli altri. Questo qua vi dà un vantaggio enorme perché tutte le persone che non sono nella whitelist pagheranno un prezzo più alto rispetto a quello che avete pagato voi normalmente chiaramente. Se il progetto va bene questo è quello che dovrebbe succedere. Quindi voi pagate al Mint 0.08 Ethereum magari su OpenSea in quello stesso momento in cui voi l'avete pagato 0.08 si sta rivendendo a 0.2 su OpenSea. Entrare nella whitelist adesso al momento è il modo più sicuro per ottenere questi profitti. Quindi quello che dobbiamo fare è ottenere queste whitelist. Ma come si ottengono queste whitelist? Allora innanzitutto come vi dicevo prima non solo dovete avere le notifiche attive per gli influencer ma una volta che trovate un progetto nella fase iniziale dovete attivare le notifiche anche per quel progetto. Innanzitutto perché ora la maggior parte dei progetti hanno il Discord chiuso quindi il vostro obiettivo comunque sarà quello di entrare nel loro Discord. E se non avete le notifiche attive difficilmente riuscirete ad entrare nel Discord perché loro faranno un post su Twitter in cui dicono i primi 100 che cliccano su questo link possono entrare nel nostro Discord. Allo stesso modo se sarete proprio tra i primi ad aver seguito il profilo Twitter vi potrebbero anche garantire una whitelist una volta che siete entrati nel Discord. Quindi diciamo magari le prime 500 persone che entrano nel Discord, un Discord appena creato, ricevono il ruolo di OG. E questo ruolo di OG normalmente vi dà anche l'accesso alla whitelist. Quindi questo è il primo metodo in cui si può ottenere la whitelist. Il secondo metodo che a me non piace molto è quello di essere molto attivi nelle chat. A me non piace perché è molto time consuming, vi richiede molto tempo. Però chiaramente se avete molto tempo da utilizzare normalmente i progetti validi daranno il ruolo di whitelist quindi daranno l'accesso al presale a chi è molto attivo nella community quindi a chi aiuta gli altri, a chi insomma partecipa nelle chat. Il terzo modo per ottenere la whitelist è quella di creare fanart. A me sinceramente piace moltissimo creare fanart. Ve ne lascio alcune qua sopra. A volte i progetti faranno dei contest, quindi delle sfide in cui chi crea le migliori fanart otterrà la whitelist. Chiaramente se non avete nessun tipo di talento artistico magari non sarà questo il metodo per voi. Un altro metodo che spesso i progetti utilizzano per dare le whitelist è quello dei giveaways. Quindi faranno sul loro Twitter dei giveaway oppure sui Twitter degli influencer dei giveaways e in cui se avrete fortuna potrete insomma vincere uno di questi spot. Un altro metodo è quello dei puzzle a volte dentro i Discord dei progetti. Ci saranno come possiamo dire dei giochi che chi vince guadagnerà la whitelist. E infine i launchpad che non sono altro che altri progetti NFT che danno accesso alle whitelist di alcuni loro progetti partner. Chiaramente ci sono moltissimi modi in cui un progetto può dare la whitelist. un altro di questi è ad esempio il fatto che se tu inviti un tot di persone dentro il Discord del progetto ti daranno la whitelist. A me sinceramente non piace quando un progetto fa questo genere di azioni perché chiaramente il Discord dopo sarà pompato di persone di cui magari non gliene frega niente però semplicemente sono state invitate da qualcuno che aveva bisogno della whitelist. Quindi comunque ci sono tanti modi per cui si possono ottenere le whitelist. Chiaramente stati attenti perché nel momento in cui un progetto dà le whitelist troppo facilmente non è mai un buon segno. E con questo veniamo al terzo punto. Il terzo punto è quello di mintare. Mintare non vuol dire nient'altro che comprare l'NFT prima che sia disponibile sul mercato secondario. Quindi normalmente il progetto avrà un suo sito su cui dovrete collegare il vostro wallet e così potrete comprare l'NFT prima che sia rivenduto sul mercato secondario. Per mercato secondario intendo OpenSea. OpenSea non è nient'altro che l'Ebay del Web3 diciamo se vogliamo metterla così. Quindi cosa dovrete fare? Nel momento in cui avete vinto una whitelist andrete a vedere se al momento in cui volete mintare quindi diciamo di solito il mint dura per 24 ore andate a vedere su OpenSea se c'è molto volume e soprattutto se la gente sta già rivendendo a un prezzo superiore rispetto al prezzo di minting. Quindi diciamo che voi potete mintare il vostro NFT a 0.08 Ethereum sul mercato secondario su OpenSea lo stanno già rivendendo a 0.25 Ethereum probabilmente quello sarà un progetto da mintare soprattutto se c'è molto volume e la gente continua a comprare e vendere. Chiaramente se comprate a 0.08 e vendete a 0.25 vi dovete ricordare che dovrete considerare nel vostro calcolo anche le fee, le gas fee che andate a pagare nel momento in cui mintate e anche le fee che OpenSea si prende insomma nel momento in cui andate a vendere il vostro NFT su OpenSea. Quindi recapitulando andate a vedere il prezzo del mint calcolate gas fee e le fee di OpenSea vedete a quanto si sta rivendendo su OpenSea e quanto volume c'è e poi potete considerare se comprare o no se mintare o no il progetto dal sito ufficiale. Ok, ora avete mintato il vostro progetto avete visto che su OpenSea considerando il prezzo di OpenSea siete già in profitto cosa fare? Allora, quello che potete fare è vendere subito quindi prendervi il vostro profitto magari avete fatto un 2x o un 3x vi prendete il vostro profitto e non guardate più il progetto. Un'altra cosa che potete fare invece è magari aspettare un po' quindi vedere se il progetto continua a salire e vendere insomma in un momento in cui pensate che il volume sta iniziando a diminuire chiaramente questa è una tecnica già un po' più difficile da fare quello che vi consiglio soprattutto se siete alle prime armi è di mintare e di vendere. Una cosa molto importante da dire ecco, una volta che mintate il vostro progetto il progetto sarà in fase di pre-reveal cosa vuol dire? Che il progetto sarà in una fase in cui ancora le rarità dei progetti non sono rilevate infatti normalmente avrete una sorta di immaginetta che vi fa vedere tanti NFT del progetto quindi voi non sapete quale rarità avrete e normalmente se siete un principante questo è il miglior momento in cui vendere perché pensateci se nessuno sa che rarità ha il valore medio di ogni NFT è più alto nel momento in cui viene fatto il reveal quindi si scoprirà chi ha degli NFT di più alto valore quelli che hanno un NFT comune si abbasserà molto il prezzo mentre per quelli che avranno appunto avuto il c***o di trovare un NFT raro il prezzo sarà molto più alto chiaramente le possibilità che voi troviate un NFT raro sono basse quindi se avete poco budget se state iniziando con 1000 euro quello che è vendete prima del pre-reveal così non vi prendete il rischio insomma di perdere altri soldi un'altra cosa interessante di cui vi volevo parlare è che se per esempio un progetto dà la possibilità di mintare 3 NFT dal sito normalmente è una strategia consigliabile se avete la liquidità perché? perché voi cosa andrete a fare? diciamo che comprate un NFT a 0.05 se ne comprate 3 pagate 0.15 per 3 nel momento in cui il progetto su OpenSea sarà rivenduto ad 1 per 3 quindi il singolo NFT che hai comprato lo puoi rivendere a 0.15 praticamente vendendo un solo NFT vi siete coperti tutta la spesa che avete fatto e rimarrete comunque con 2 NFT ancora da vendere quindi quello che farete è vendere il secondo per il profitto quindi diciamo che ne riuscite a vendere un altro a 0.15 quindi ora siete su di 0.15 Ethereum e ne avrete ancora un terzo da o vendere per un ulteriore profitto oppure da tenere se pensate che quel progetto abbia effettivamente potenzialità chiaramente la maggior parte dei progetti non esisteranno fra qualche mese fra qualche anno quindi tenetevi solo quelli che veramente pensate che possano fare qualcosa di buono per il resto vendete tutto soprattutto se siete agli inizi per fare profitto e avere liquidità come potete vedere la strategia comunque è molto sicura un'ultima cosa prima che vi lascio è che comunque mettete solo soldi che potete rischiare di perdere perché comunque nessuno sa come potrà andare un progetto e niente se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video